La magia dall'antichità fino al Cinquecento. Oggi approfondiremo insieme questa interessante tematica cercando di sviluppare dalla sua storia le origini quindi fino alla letteratura cinquecentesca, indagando dunque cosa significhi magia, dove nasce, come si sviluppa e soprattutto che impulso ha dato nella nostra letteratura. La cultura magica ha inizio con la civiltà egizia. Infatti la loro arte sacra, chiamata Hike, ossia la capacità di assoggettare le forze e i fenomeni naturali, danno il via proprio allo sviluppo della magia, in senso spirituale, divinatorio, ma soprattutto nel sapere evocare i morti, così come accadeva anche per le popolazioni ebree, babilonesi ed assire. Con le popolazioni del vicino oriente nasce anche l'astrologia, legato al concetto di predizione, destino e fato delle persone, legate soprattutto alle proprie costellazioni cardine di nascita. Il mondo greco acquisisce gran parte della sua conoscenza magica dall'antica Persia. Troviamo molto dominante il fato, come potenza naturale incombente sugli uomini, e queste interpretazioni, i tali pratiche, vengono ottenute attraverso gli interventi di indovine o sacerdotesse chiamate pizzie. La magia dei misteri con la scuola pitagorica. È considerato il più importante centro di pratiche magiche nel mondo greco, dove si svolgevano rituali e cerimonie segrete. Il loro simbolo cardine era il tetrachitis o tetrattide, e la raffigurazione completa di questo triangolo rappresenta la sintesi del tutto, l'unità, la molteplicità, la materia che si differenzia. Infatti per i pitagorici il 10 simboleggiava l'universo, e questo simbolo lo ritroveremo successivamente in tutte le pratiche esoteriche e massoniche e filosofiche che in qualche modo svilupperanno ancora di più queste tematiche. La cultura magica romana non è altro che la fusione con altre culture, soprattutto etrusca, greca e medio orientale. È complino il vecchio e la sua naturale istorie che avremo il più ampio repertorio di antiche pratiche magiche in uso a Roma in quel periodo. Tuttavia il più importante documento legislativo romano che attesta delle pene gravi per chi compiva rituali e pratiche magiche di ogni tipo è da rintracciarsi nelle cosiddette leggi delle dodici tavole, redatte tra il 441 e il 440 avanti Cristo. Non abbiamo i testi completi giunti fino a noi, solo dei brevi estratti che sono stati tramandati e redatti scritturalmente, per cui come potete vedere nella slide abbiamo sì il riferimento di leggi che vietano il maleficio, ma non sappiamo effettivamente il tipo di pene che venivano inflitte per queste pratiche magiche. Un testo che di sicuro racchiude in sé tutte le tematiche magiche dell'epoca è sicuramente la metamorfosi o l'asino d'oro scritto da Apuleio. Composto in epoca imperiale, narra le vicende del giovane Lucio, il quale, bramoso di scoprire l'arte della magia, raggiunge la Tessaia, all'epoca considerata terra di streghe e di incantesimi, per poter diventare anche lui un mago famoso. A un certo punto Lucio si trasforma in asino, dopo essersi spalmato uno strano unguento sul corpo e compirà un lungo viaggio per ritornare se stesso, per tornare alla sua forma originale, aiutato anche dalla dea Iside. Le tematiche che ritroviamo nella metamorfosi apuleiana sono soprattutto tematiche occultistiche del Medio Oriente, soprattutto egizie e siriane. Nel testo sono elencate anche moltissime operazioni di stregoneria, magia talismanica, evocazione dei defunti e di prassi divinatorie, in uso presso i romani in quel periodo. Sant'Agostino, nel Decivitate Dei, tratta proprio della metamorfosi di Apuleio, e questo testo avrà una larghissima fortuna nel corso del XV secolo, tanto da essere stampata la sua edizio Princeps nel 1469 a Roma sotto i torchi di Schweinem e Pannartz. In seguito all'avvento e alla predicazione del cristianesimo, la magia romana subì dettami antimagici dei cosiddetti padri della Chiesa. La magia fu considerata una menzogna, un'arte empia e scellerata, che si sarebbe svolta mediante l'intervento e in virtù di forze demoniache. Esercitare la magia significava non riconoscere il messaggio salvifico di Cristo, intrattenendo rapporti con il demonio. Da tale visione si distaccò Sant'Agostino, il quale nei suoi scritti fece distinzione tra magia demoniaca e stregoneria e magia benefica, che sarebbe stata capace di purificare le anime e di prepararle a ricevere gli angeli, entità che le avrebbero condotte alla visione di Dio. Nel Medioevo la magia era soprattutto arte della trasformazione, comunemente detta alchimia. Gli alchimisti erano in grado di creare sostanze e pietre particolari, come la pietra filosofale, la quintessenza, l'elisir di lunga vita, con l'obiettivo di conoscere tutti i campi del sapere ed essere un tutt'uno con l'universo. Infatti, per loro, non vi è una distinzione fra il mondo dei minerali e il mondo degli uomini. Come potete vedere nella foto in basso a destra, il simbolo precursore degli alchimisti è il triangolo, il tetrachitis che avevamo incontrato anche nella scuola pitagorica. Nel 1263 Tommaso d'Aquino redasse la sua Somma Teologica, testo che costituì il compendio del pensiero cristiano in merito alla magia e alla stregoneria. L'opera restò un esempio della teologia antimagica per lunghissimo tempo. Per Tommaso il potere derivante dalle arti magiche sarebbe peculiare del demonio e contrasterebbe il messaggio di Cristo. Questa posizione ideologica permeò tutto il periodo del Medioevo. Nonostante la scomunica e il divieto di queste pratiche da parte della Chiesa, la cultura dell'epoca fu pervasa dalla convinzione dell'esistenza di una realtà meravigliosa, nella quale sarebbe stato possibile l'intervento di forze naturali invisibili. Lo stesso Dante Alighieri in alcune sue opere minori e nella celebre commedia si pone il problema della magia. Per il sommo poeta la magia si collega strettamente all'inganno del demonio, considerato come la sola creatura dell'universo alla quale sarebbe stato dato il potere di modificare l'ordine naturale delle cose e delle sue leggi. Onde nel cerchio secondo sannida ipocrisia, lusinghe e chi affattura falsità, ladroneccio e tzimonia, ruffia a mago, baratti e similar l'ordura. Così dice Virgilio al sommo poeta, incontrando appunto tutti i personaggi che avrà di fronte a sé nel suo lungo cammino. Secondo Dante tra quelli che affatturavano vi sarebbero stati anche gli indovini, nonché le tristi donne che lasciaron l'ago, la sposa e il fuso, e fecersi indovine, fecer male con erbe e con i mago. Oltre alle pratiche alchemiche in epoca umanistico-rinascimentale, vengono prodotti testi ed elaborati molto vari sulla magia naturale, ossia la capacità di manipolare la natura vista come entità viva. La magia e l'universo, per coloro che praticano la magia naturale, sono visti come unici e perfetti, connessi tra loro, immagine stessa di Dio in cui l'uomo sarebbe stato a sua volta lo specchio del mondo sensibile. Lo strumento principale per operare tale forma di conoscenza era l'amore, ovviamente per il sapere e per la conoscenza. Troviamo numerose figure che si occupano di tale pratica, tra cui Nostradamus, Enrico Cornelio Agrippa, Paracelso, Pico della Mirandola, Giovanni Battista della Porta, Gerolamo Cardano e Marsilio Ficino. Ma accanto a questa magia colta e profondamente esoterica, durante il periodo rinascimentale si sviluppò una prassi magica popolare improntata sulla stregoneria, che perdurò in tutta Europa fino alla fine del XVII secolo. Stregoneria e magia nera erano pratiche condotte mediante l'evocazione e l'intervento esplicito o implicito dei demoni. Fu rafforzato il ricorso all'inquisizione religiosa e furono stabilite pene gravissime non solo contro coloro che praticavano la stregoneria, ma anche contro gli astrologi, gli indovini, i negromanti. Persero sviluppo gli studi e le composizioni religiose per controbattere le pratiche magiche e stregonesche. Il Malleus Maleficarum o Martello delle Malefiche, redatto in latino nel 1487 dal frate domenicano Kramer con la collaborazione del confratello Sprenger, ha lo scopo di reprimere in Germania l'eresia, il paganesimo e la stregoneria. Non è un trattato originale, ma consiste per lo più in una raccolta organizzata di credenze e nozioni pregresse sul fenomeno della stregoneria, spesso estrapolate da testi più antichi. Non è privo di sfumature misogine. Ci sono più streghe che stregoni, secondo gli autori, perché la donna è mass occasionatus, ovvero un maschio mancato. Un pensiero che vorrebbe essere aristotelico, che viene sostenuto in maniera ridondante attraverso citazioni continue di Aristotele, Sant'Agostino e di molti altri testi sacri. Gli autori inoltre si soffermano con morbosa insistenza sulla licenziosità dei rapporti sessuali che le streghe intratterrebbero con i demoni. Arriviamo adesso a trattare della magia nella letteratura. Le pratiche magiche e stregonesche ebbero un enorme sviluppo nella società europea del XVI secolo, come forse mai era accaduto prima, e ciò anche in conseguenza del forte interesse che la cultura dell'umanesimo aveva manifestato per l'esoterismo e tutti quegli studi volti a manipolare vari aspetti della natura, che ormai non veniva più considerata come il libro di Dio immutabile e inviolabile secondo gli insegnamenti medievali. Non parliamo ovviamente solo di credenze popolari e di superstizioni da sempre diffuse tra la popolazione contadina, ma di un'attenzione ai temi dell'occultismo anche da parte dei ceti più alti della società aristocratica, in cui specialmente l'astrologia e gli oroscopi avevano avuto grande successo, così come anche la lettura dei tarocchi, mentre opere attinenti alla magia venivano scritte da intellettuali e filosofi di primissimo piano, come Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Nostradamus e così via. Molti sono stati gli autori della nostra letteratura che si sono soffermati su queste pratiche magiche nei loro scritti. Vediamoli insieme. La mandragola di Niccolò Machiavelli, commedia scritta tra il 1512 e il 1520 e composta di cinque atti, satireggia sulla corruttibilità della società italiana dell'epoca. La storia riguarda un raggiro ai danni dell'ingenuo Nisha che gli viene fatto credere che la moglie resterà incinta se andrà a letto con un uomo dopo aver bevuto un infuso di mandragola, pianta medicinale e velenosa. La pianta, al centro della commedia, era oggetto di molte leggende e già nell'antichità veniva ritenuta in possesso di proprietà curative e miracolose. Inoltre si pensava che estraendola dal terreno emettesse un lamento in grado di uccidere un uomo, per cui era necessario far compiere questa operazione a un animale. Il Morgante di Luigi Polci. È un poema eroico in ottave, scritto nel 1478, con ben 3080 versi totali. È infatti considerato uno dei più grandi poemi scritti nella nostra letteratura italiana, insieme alla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. In questo predomina una gran fantasia animata da spirito burlesco, talvolta spregiudicato, espresso in un linguaggio pungente tipico dei cantari popolari, ossia dei componimenti cavallereschi del 400 e 500 che erano soliti accompagnare con della musica, destinati ad un'esecuzione in pubblico. Fu iniziato e per sollecitazione di Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico. Ella avrebbe desiderato dal pulci un poema cavalleresco, in linea con la tendenza alla rifiodalizzazione che in quel tempo era presente in Firenze. Il poeta invece dimentica ben presto l'impegno epico e scrive una parodia del poema cavalleresco, dove per l'appunto Morgante è un gigante convertitosi al cristianesimo. L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, compilato nel 1516, poema cavalleresco in ottave, che riprende l'Orlando innamorato composto da Boiardo, è considerato la summa della magia fantastica per eccellenza nella nostra letteratura italiana. È dedicato ai Polito d'Este e presenta un complesso ciclo arcuriano e ciclo bretone insieme a una serie di riflessioni morali e filosofici con annessi elementi della magia, attinti soprattutto dal Morgante di Polci. Troviamo un binomio molto forte fra natura e magia, come emerge nel canto VI ottave 60-61, e nel complesso possiamo dire che nei confronti del tema Ariosto è di forte scetticismo e ironizza contro coloro che perdono il senno dietro a quelle magiche sciocchezze. Interessante in tutto questo racconto è soprattutto l'episodio di Astolfo sulla Luna. La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, poema eroico di stile solenne redatto nel 1581, ha invece come tema centrale la prima crociata del 1096-1099 con a capo Goffredo di Buione. L'idea di scrivere un'opera sulla prima crociata è mossa da due obiettivi di fondo, raccontare la lotta tra pagani e cristiani, di nuovo attuale nella sua epoca, e raccontarla nel solco della tradizione epica cavalleresca. Sceglie dunque la prima crociata proprio perché è un tema non così ignoto al tempo, da lasciar pensare che fosse inventata, ma anche molto adatto all'elaborazione fantastica. Tra Tasso e Ariosto possiamo già individuare due importanti differenze. In Ariosto ci troviamo di fronte a un meraviglioso magico, con Tasso invece a un meraviglioso cristiano. Il tema centrale dell'opera tassiana è dunque epico-religioso. Tasso cercherà di intrecciarlo con temi più leggeri, senza però sminuire l'intento serio ed educativo dell'opera. Nel poema si intrecciano due mondi, l'idillico e l'eroico. Goffredo di Buione è il personaggio principale che raduna i cavalieri cristiani e li guida alla liberazione di Gerusalemme. Nella trama troviamo anche una serie di vicende che si intrecciano e che danno una sorta di dualismo tra bene e male. Sebbene anche ci sia la magia, l'intervento sovrumano è dato da cielo e inferno, angeli e demoni, intrecciate con suggestioni erotico-sensuali. Tasso dunque si pone come obiettivo quello di allontanarsi dal furioso di Ariosto, per rispettare i precetti letterari stabiliti dalla tradizione della poetica aristotelica. Rispinge dunque il meraviglioso fiabbesco del romanzo cavalleresco, a favore del meraviglioso cristiano. Gli interventi soprannaturali di Dio, degli angeli e anche delle creature infernali, che appaiono verosimili al lettore, fanno parte delle verità di fede. Tasso afferma che la poesia può unire al vero il verosimile, a condizione di mantenere una coerenza storica nello sviluppo complessivo della vicenda. L'esigenza del richiamo ai valori religiosi è insita nel fine pedagogico della sua Gerusalemme liberata. Il poema è teso non solo al delectare, ma anche al docere. I cristiani allora dovevano riscoprire la propria compattezza, combattendo per difendere la propria fede dalle minacce esterne, ovvero i turchi, ed interne, ovvero le spinte di sgregatrici figlie della riforma luterana. E insieme ad esse dunque anche la controriforma, il rinnovamento del Tribunale dell'Inquisizione e l'istituzione dell'Indice dei Libri Proibiti. Possiamo dunque concludere che la magia di Ariosto è più rivolta al fiabbesco, mentre quella di Tasso ha un unico fine, quello di ricondurre il contrasto tra bene e male. Siamo giunti alla conclusione del nostro breve approfondimento sulla storia della magia dall'antichità fino alla letteratura cinquecentesca. Troverete sul canale YouTube della pagina Artlet Filoarchio altri video di riferimento a queste tematiche che troverete sotto al video, compresa anche una piccola bibliografia di riferimento come sempre per approfondire di più queste tematiche. In particolare vi suggerisco la lettura del volume Maggia Bianca, Maggia Nera nel Rinascimento a cura di Zambelli, longo editore 2004. E io come sempre vi ringrazio e ci vediamo presto con altri video approfondimenti targati sempre Artlet Filoarchio.